Ora saluto gli amici di Space TV, sono il dottor Luca Vapini, esperto in geopolitica e sono qui per parlare un po' degli aspetti in generale di quello che sta succedendo attualmente nel mondo. Se vogliamo iniziare eventualmente a parlare di quello che penso che sia più opportuno al discorso dell'Ucraina. Ma io già avevo fatto delle interviste precedenti con Space TV, parlavo appunto aprile dell'anno scorso dell'aspetto dell'Ucraina, ma ritengo, e le dico le stesse cose che ho detto l'anno scorso, ritengo che bisogna arrivare a una tregua, una tregua armata, non si può continuare una guerra di questo genere perché la Russia è troppo forte, l'Ucraina non può continuare ad aspettare dell'Occidente armamenti che non hanno senso. Infatti io sono sulla linea di una forza politica italiana che chiaramente sta cercando in tutte le maniere di evitare di mandare armamenti all'Ucraina. La posizione, d'altra parte, ritengo che se l'Ucraina vuole tenere parte del territorio, quindi la parte più importante del territorio, deve arrivare a una tregua armata con la Russia e nello stesso tempo diventare zona di cuscinetto, una cuscinetto neutro. L'aspetto dell'Unione Europea che vuole farla entrare all'interno dell'aspetto dell'Unione Europea, secondo il mio punto di vista è negativo. L'Ucraina deve essere a tutti gli effetti un territorio di, che posso dire, grande cuscinetto, dove bene o male riescono eventualmente ad evitare questa continua emorogia di uomini e di mezzi, perché dobbiamo considerare che l'Ucraina attualmente ha pochi combattenti e poi non ha senso all'interno della parte occidentale avere una guerra di così ampio respiro. Quindi io consiglierei comunque una tregua armata a tutti gli effetti. Penso che se arriverà all'obiettivo, poi ripeto non voglio fare il previsore, ma ritengo che se dovesse vincere il Presidente Trump ancora, penso che si arriverà comunque a una conclusione in breve tempo della guerra. Poi l'Italia nel contesto dell'Ucraina. L'Italia aveva dei grossi contratti e dei partnership nei confronti della Russia. Il fatto sia non solo del gas, che siamo riusciti a supportare naturalmente con il discorso dell'Africa, grazie a tutti gli oliodotti e gasdotti che noi avevamo all'interno della parte africana, verso la Sicilia e verso il meridione. Però alla fine è assurdo continuare a rinforzare come armamenti, come munizioni la parte ucraina. Bisogna trovare comunque una posizione europea e quindi io ritorno sempre sull'obiettivo di una costituzione, di una forza armata europea. Non perché la Nato non abbia coperto negli ultimi 70 anni la nostra, chiamiamolo il nostro welfare, perché il nostro welfare è dato dalla Nato. La nostra posizione di difesa è data dalla Nato. Però anche in considerazione del fatto, come dicevo prima, che Trump potrebbe diventare Presidente degli Stati Uniti, e quindi ci sarebbe la possibilità comunque di un'uscita graduale dell'esercito americano nei confronti della difesa europea. E quindi gli europei dovrebbero cominciare, anche grazie al discorso del 2% del prodotto interno lordo che è stato richiesto come difesa, cominciare naturalmente a ragionare per avere un esercito europeo. La Francia naturalmente, avendo la FOS DEFRAP, voi sapete che la FOS DEFRAP sono i missili nucleari, perché è molto indipendente la Francia rispetto a altre realtà europee, vorrebbe prendere questa posizione di leadership. Io penso che comunque una sana riunione di tutti i Presidenti del Consiglio o chi per esso all'interno della coalizione UE potrebbe dare sviluppo a una collaborazione militare, una sostituzione, una sostituzione delle forze Nato nella forza europea di difesa. E come dicevo precedentemente, nelle interviste precedenti, anche avere un armamento di livello europeo. Qui abbiamo 5-6 tipi di produttori diversi, con tipi di velivoli diversi, con tipi di aeroplani diversi, tipo di cararmati diversi e tipo di munizionamento diverso. Sarebbe opportuno comunque trovare una collaborazione europea e trovare degli aerei unici, dei cararmati unici, un armamento che sia tutto sommato conforme alla nostra direttiva di forza armata europea. E penso che sia la cosa migliore che si possa avere. Questa è la posizione dell'Ucraina. Grazie a tutti.